Canemacchina inizia bene domina il match contro Los Angeles Galaxy che si difende. Sfiora il gol all'inizio, poi Canemacchina verso il decimo del primo tempo, riesce a sbloccare il risultato, facilmente entra in area, conclude con violenza, con convinzione, arriva anche il raddoppio e dentro alla fine del tempo con la difesa aperta il 3-0 nella ripresa. Gol al volo, molto bello, purtroppo c'è solo la parte finale, finisce 4-0. Real Tarallo contro Novegolo fa tutto nel primo tempo, bellissimo il diagonale che sblocca il risultato, Novegolo non riesce a costruire occasioni pur giocando discretamente bene, subisce il raddoppio con un aggancio e un tiro molto bello. Anche la terza rete, come vedete, ha tempo scaduto nella prima frazione di gioco, poi nella ripresa controlla Tarallo Novegolo, gioca bene ma non riesce a proporsi in avanti. Lotta continua va in vantaggio con l'errore della portiere di Dinamo Steve, che poi in ritardo qui nell'intervento non segna ma arriva subito dopo il gol di Lotta continua con un taglio pazzesco che riapprezziamo. Il palo di Lotta continua sul 2-0, un altro montante, è una partita senza storia, qui la parata, poi arriva anche il terzo gol che consentirà a Lotta continua nonostante gli sforzi nel finale di chiudere il match con questo risultato. Crazy Horse inizia bene e colpisce un palo esterno con questo tiro piuttosto lento, Sporting Doping reagisce, prima sfiora il palo, poi la grande occasione palla sul portiere, però la grande occasione ce l'ha nella ripresa Crazy Horse che aspetta troppo tempo, poi conclude facendosi ipnotizzare dall'intervento decisivo di Sporting Doping, che è l'ultimo, sfrutta l'errore e segna. Sleepy United pochissima occasione contro l'Ocomotive, tiene benissimo il campo, le costruisce lui le prime due occasioni, gli unici tiri in porta della partita, qui conclude sul portiere, alla fine però viene punito. A due minuti nella fine l'errore che permette l'Ocomotive di entrare e di insaccare il gol della vittoria, ma quanta fatica!